Oggi sono qui per presentarvi il mio nuovo progetto. È Orange One for People Foundation, ente senza scopo di lucro, creato per i giovani e con i giovani, perché sento nel profondo del mio cuore il bisogno di dare a loro la possibilità di guardare al futuro in modo costruttivo e positivo. Sui giovani si sprecano molte, troppe parole, ma io voglio fare realmente qualche cosa di concreto e in modo strutturato. Per fare questo ed essere vicino a loro, ho inserito all'interno di Orange One for People Foundation i miei figli e un comitato di 5 giovani dai 18 e 21 anni che aiuteranno ad individuare i progetti da realizzare più importanti per loro. È un progetto ambizioso e necessita del supporto di tutti coloro che condividano gli stessi obiettivi e valori. Forza Orange One for People Foundation e metti i giovani al primo posto!